Una fotografia trasversale preoccupante di un popolo alla ricerca di nuove strategie per sopravvivere è quella scattata dal Censis nel nuovo rapporto annuale. Alta la sfiducia nei confronti dei partiti politici, non va a votare quasi il 30% degli italiani aventi diritto, anzi per il 48% della popolazione ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di Parlamento ed elezioni. Negli ultimi tempi sembra essere montata una pericolosa deriva verso l'odio e l'intolleranza in un paese sempre più individualista e con poca fiducia negli altri. Il 62% del campione però è contrario all'Italexit. Gli italiani sono sfiduciati e stressati, lo stato d'animo dominante è l'incertezza sia sotto il profilo economico che del lavoro. Mattone e botte non rappresentano più una garanzia per il risparmiatore medio. In Italia è nato uno tsunami demografico con un grande esodo dal sud. Dal 2015 si contano 436.000 cittadini in meno. Il 53esimo rapporto sulla situazione sociale del paese fa una panoramica anche sul mondo dei giovani che sono incollati agli smartphone. Il cellulare è il primo e l'ultimo gesto della giornata. Aumenta poi il numero degli italiani laureati e diplomati che vanno all'estero. Ogni anno sono 100.000 a despatriare in cerca di lavoro e fortuna. Grazie. Grazie.